l'apertura agli esteri e il delicato vertice europeo per aver pronte alle minacce della Russia. Quello che si apre tra poche ore dovrà tenere conto delle possibili crisi di sicurezza e serve un approccio che tenga conto di tutti i rischi. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità imperativa di una preparazione militare civile rafforzata nonché coordinata e a poche ore dall'inizio del vertice si è arrivato vivo il presidente ucraino Zelensky dicendo che i teoristi russi non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei patriot americani e di altri importanti sistemi mondiali. Ciò sarà tutto possibile se i partner europei avranno sufficiente volontà politica. Zelensky ha parlato di questo dopo che un attacco missilistico russo è stato sventato dalle forze ucraine e abbattuti 30 missili di cui uno ipersonico. Intanto la Russia utilizzerà tutti i meccanismi giudiziari per rispondere se l'Unione europea deciderà di conviscare i proventi dai suoi capitali congelati in Europa per destinarli a Kiev. Lo stesso Cremlino ha denunciato la pressione senza precedenti degli Stati Uniti e dell'Unione europea sulla Cina dopo che alcune banche hanno respinto pagamenti in Wuhan da parte di aziende russe per il timore di sanzioni secondarie.